Ciao a tutti ragazzi, quest'oggi come potete vedere ci troviamo nuovamente qui, siamo all'interno del server The Legend Craft Oggi ragazzi dobbiamo fare una marine di cose dobbiamo fare Intanto come potete vedere ho perso il piccone e non c'ho livelli Perché questa cosa? Perché ho scoperto il pvp e mi piace da morire Ovviamente morendo ho avuto la brillante idea di andare col piccone e l'ho perso Poi un'altra cosa, guardate questa cesta ragazzi Non so se vedete, ma don't me Infatti ragazzi adesso chiameremo, sperando che sia on Signor Manu, mi cambia le netherstar in token Sperando sempre che sia online, lo mandiamo un'altra volta Magari non le ha prese, no Anzi aspetta io lo diciamo Le netherstar le ho nella cesta in casa, signor Manu Ragazzi per tutte queste netherstar ora vi faccio vedere come si fa a farle Perché veramente mamma mia Eh signor Manu, allora intanto mi sono fatto il conto Un attimino che devo aprire la calcolatrice Calcolatrice Ah già già se le prese tutte, ah va bene In ogni caso devono essere la 576 per 6 uguale 3456 Ragazzi io ho appena dato 3456 netherstar Tutto ciò facciamo diviso 2, mi deve dare 1728 token Allora vediamo quanti token mi dà C'è il Manu, non mi sbagli Che poi volete sapere la cosa bella Ma me le ha dati slash token Ah me le ha dati, yes 1764 Vi dicevo ragazzi che poi sapete la cosa bella Tutte queste netherstar me le stavo collezionando Fortunatamente comunque c'ho queste Che mi erano avanzate, che culo Appunto vi dicevo queste netherstar me le stavo tenendo da parte Intanto qua quante Mattoni Ragazzi vi giuro che non ne avevo così tante Prima di registrare ne avevo mi pare 8 stack E anzi sapete che vi dico Adesso intanto mi vado a prendere un'ascia Visto che tutte queste netherstar me le stavo conservando per gli inciante nuovi Visto che ancora non so quando dovrebbero uscire Ma so che devono uscire Quindi sapete che vi dico Levo questo cartello e lo rimetto comprandole a prezzo maggiorato Perfettissimo, ho cambiato il cartello E adesso compro netherstar a un milione e mezzo Lo scriviamo in chat Visto che ne devo ricomprare un altro po' E mandiamo il messaggio Compro netherstar a un milione e mezzo l'una Al mio ph Nella cesta sulla destra Scutmi Vendetemi netherstar Scutmi Pepo ora valgono 2kk Ah valgono Ah valgono 2kk Porca va No me le stanno vendendo Me le stanno vendendo Pazzi No 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 ma si dai oggi sono in vena di regalare soldi Ma si ma fanculo tutto Perfetto Messa 2 milioni E cambiamo il messaggio a sto punto Compro netherstar a 2 milioni l'una E mattonmi E i soldi miei che se ne vanno tantissimo E come vedete adesso le netherstar piano piano arrivano Magari nel prossimo video vi farò vedere La cesta piena E sfortunatamente l'ho svuotata in questi giorni Se la cesta vi sia riempita già una volta Oh mio io non so se state vedendo le netherstar Che sto vedendo Io non so se voi state vedendo Io non so se voi state vedendo Porca putta Che che lì pre Mattonmi Mattonmi Tanto per dirvi già ho fatto uno stack Ma vi ricordate nei primi video Quando valevano 100.000 all'uno Le netherstar Ebbene ora valgono 2 milioni Ma fortunatamente ragazzi nel mio caso Io sono WarpT La cosa bella Ah ma io sono senza peccone Porca tavacca Ma tralasciando tutto ragazzi Oggi ho voglia di farvi vedere Un paio di belle cose Intanto vi ricordo che l'IP del server Ve lo lascio qui sotto in descrizione Perché in tantissimi Me lo chiedete sempre Pepo ma l'IP qual è Pepo non c'ho l'IP In descrizione Apritela quella cappero di descrizione E non l'aprite mai Qua ragazzi ho piantato i cactus Che devo ringraziare voi Perché me li avete regalati voi sul server Sia i cactus che le zucchie E qui sotto ragazzi Mi sto facendo la farm di zucchie Quindi le vado a prendere Eh vabbè però io non devo saltare in questi cosi Comunque prendiamoci tutte le zucchie Perché ragazzi ci serviranno Perché mi dovete credere Il pvp Mi sta divertendo tantissimo L'unica rottura di barbabietola È che io e il pvp Con 700 di ping Non lo posso fare Porca vacca Perché Perché non lo posso fare Perché tira una spadata E la spadata arriva dopo 10 minuti Tipo no Però Sono sincero raga Mi diverte troppo Mi diverte troppo Qui tutta sta terra Non l'ho finita di levare Perché mamma mia La noia incredibile Di levare la tetria Papam È fatto Il tuo materiale glowstone è esaurito Eh sì Lo so Non ne vendo glowstone Almeno per ora E nel frattempo sono cresciute Altre zucchie Perfettissimo Così ti voglio Così ti voglio E madonna mille Netherstar Madonna mille I soldi Che se ne vanno Ciao soldi Notate Marco Pepo Arrivo Tranquilli che Fino a ciò 11 miliardi Anzi Mi dispiace Che volevo farvi vedere Un altro upgrade Volevo salire di rank Però ragazzi Credetemi Mi scocciava da morire Fare Diciamo Il miliardo e mezzo Che mi mancava Perché se facciamo Slash ranks Come vedete Servono 13 miliardi Per rancare Io ne ho 11 E passa Anzi Ora che sto comprando le cose Addirittura me ne serviranno Due di miliardi In ogni caso In questa cesta Eccole qua Ho craftato un paio di torte Qui dovrei aver messo Eccoli qua Per il pvp Sono favolosi E mettiamo Le zucchie E le cose così Babam Perché Che cosa Dove Cosa Perché hanno Nomi diversi Torta della forza Torta della potenza Se mettiamo la torta della forza Che se vedete ci aumenta L'attacco per 10 secondi Se facciamo così Diventa una torta Che ci aumenta sempre l'attacco Ma per 60 secondi Ovvero per un minuto Fatto Quante ne ho fatte? 8 Non me ne servono Molte di più Crafta Crafta E adesso Direi di andarsi A fare il piccone Una volta che l'ho perso E stavolta però Starò molto più attento Andiamo al warp shop Ovviamente ragazzi Io sono il piccone Del kit serial killer Manco a dirlo E mi faccio Escavation 2 Che costa? 500 token Ciao 1500 token Quanti me ne sono rimasti? 264 E sapete che vi dico ragazzi Ho voglia di fare un attimino Di pvp Adesso io non mi ricordo Se ho già ritirato Il premio del voto Sì 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 Ok va bene Sì sì Ho già votato E ritirato il premio Perché visto che voglio fare pvp Mi servono le mele d'oro I soldi che se ne vanno Le nether Andiamo al warp g Che al warp g Dovrebbero esserci Eccoli qua I blocchi d'oro Piccone scoppiti Bravo Caris Perfettissimo Appos Blocchi d'oro Fatti Mele al centro E tec Fatto Perfetto 17 mele Vanno più che bene Il piccone Lo metto nella cesta Non mi riempire l'inventario Non mi riempi E direi di prenderci Un 4 torte della potenza E consumare fame Ragazzi ho voglia di fare pvp Anche perché ho voglia Di farvelo vedere Quindi in primis Devo far scendere la fame Perché devo poter Mangiare la torta Ma se andiamo al warp pvp Qualcuno c'è che sta pvpando E così quasi lo dico in chat Chi vuole fare un po' di pvp Siamo pronti Più o meno Dico molto più o meno C'ho l'inventario Buono Se muoio Perderò soltanto La spada E l'armatura Detto ciò Io mi mangio Una bella mela d'oro Premiamo qua E mi mangio Una bella torta Della potenza Bam Ragazzi guardate Quanto danno Che facciamo Molite Molite Mamma c'è tutti Mamma c'è tutti Mamma mia Sono una bestia Non mi ferma nessuno Non mi ferma nessuno Mai nella vita Mamma mia Sono fortissimo Eh vabbè C'ho già l'inventario pieno Io però mo adesso No ragazzi Mamma mia Quanto è forte La torta della potenza Quanto è forte Sono fortissimo Sì vabbè Ma sto trovando Soltanto kit base Ho un kit falsario Bravo Peppo Mi piace questo gioco Ah 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 No 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 Però se ti pari E non duellino Non c'è gusto però Ah 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 Sono forte Sono forte Bam bam Sono forte Sono forte Allora direi di fare slash PH E mi svuoto l'inventario Kit base Kit falsario me lo tengo Intermedio Blu butto Ammetto che un po' mi dispiace Il kit falsario Che io ho preso Però non è Intanto qua mi stanno dando Grazie bigot Che mi dà i blocchi di smeraldi Grazie caro Voglio fare per forza Un altro pvp Allora mi mangio Uno Mi mangio Due Perfettissimo E andiamo qua Vediamo Oh ciao Beppe Ciao Hahahaha Vabbè Oh ciao Next Ciao caro Ciao tesoro Vieni qui Vieni qui Ti voglio bene Ti voglio bene Ti voglio bene Ti voglio bene Vieni qui Vieni qui Non mi divertite Solo voi due Oppure io Voglio divertirmi Oppure io Sarò il danno incredibile che mi fa questo Matton me Vieni qua Vieni qua Arlantario Vieni qua Matton me Mi sta affrontando Mi sta affrontando Mi sta affrontando You are a front to me You are a front to me Matton me Matton me Matton me Matton me Ah 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 Credetemi ragazzi Il pvp mi piace da morire A me dispese soltanto che c'è appunto sto 700 di ping fastidiosissimo Matton me Mi fa malissimo Matton me Mi sa che mi è finito il tesoro mio E mi era finita la mella d'oro Mi dispese soltanto che vedete che con sto 700 di ping il mio colpo arriva eh Anzi fortunatamente arriva perché io non laggo Pingo tanto Quindi avendo il ping alto Ah no emerald C'è sto emerald che mi vuole dare semplicemente il lib Sono un corruto Attacco tutti Oh salve signor quicklogin Salve C'è il piccone C'è il piccone voglio il piccone voglio il piccone voglio il piccone Dammi il piccone Dammi il piccone Voglio il piccone Oh si signore Beh qua come si chiama lei È che sono diventato una palla da ping pong Eppure lei mi scusi Mi scusi Johnny scusi Scusi Perfetto 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 Oh yes Ciao tesoro Oh I'm so sorry man Matton me mi devo mangiare la mela d'oro Mela d'oro Beppo sicuro è incredibile Oh bam Pepo 3393 compie la kill Bam Questa qua che spada è Oh kit ladro Beppo che trovi kit ladro Non sei più in combattimento Verda c'è non posso fare Volevo sparire Che fa scappi eh Affrontami davvero uomo Affrontami davvero uomo Sì però non vale Sono tutti contro di me Non vale Poi lei mi scoci mi Scoci mi Scoci mi Oh bam Oh No sono morto No Ma no Ma no Sono morto No però dai cazzalo Bellissimo Mi sa che ha mangiato pure lui La 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 Ho perso tutto quello che potevo perdere L'ho perso Ma sapete che vi dico Io dovrei avere Infatti aspettate un attimo Io ho l'armatura che ho preso prima Infatti kit falsario Bam mi uso questa Poi mi prendo una spada serial killer Che me ne frego Se la perdo sti cavoli Facciamo un bel fix all Mi metto tutta questa roba E adesso mi servono sia le mele dorate Che le zucchie Eccolo qua Quelle da 60 secondi E le mie bellissime mele Ho troppa voglia di fare Altro pvp Mi piace troppo L'unica rottura ragazzi È che prima di andare al pvp Io devo far scendere la fame Perché mi devo mangiare la torta E la torta It's a buona 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 Vai scendi fame Scendi fame Perfettissimo Brava ragazza Mangiamoci una mela E poi una bella torta Della potenza Perfettissimo Andiamo subito al pvp Signor Carty Signor Carty Scusami Dove va signor Pirito Dove va signor Pirito Anno si chiama Canja Oh c'è di qua il signor Cicciocca Madonna Cicciocca Lo devo ammazzare Cicciocca Oh bastardo Che gli rubi la cosa Ti rompi Cicciocca Vieni qui Scusami Ok Vabbè cazzo Alla kit intermedio Speravo qualche cosina Di più io Oh ciao lele Oh ciao carissimo Tesoro mio Oh ciao caro Ciao tesoro Ciao bel Perché non muori Sei in god Ma oh chi è che mi attacca Ma sei tu che mi attacchi Oh sei tu che mi attacchi Quindi mi attacchi da dietro Ed drive organ Ed drive organ Dove sei Vieni qua Ma tormi ma tormi Mi chiamavano l'assassino Delle caverne Ma tormi ma tormi Uuuu Addio all'elmo Tesoro mio Uuuu Bam Bam E mi mangio pure Una bella torta Bam Che fa ma Mi stai affrontando eh Nike Tu sei quello che sei scappato prima eh Affrontami Davvero uomo Nike Affrontami davvero uomo Non scappare Non fuggire Nike Sei un vero uomo Sì guarda pure appugni Pure appugni Levati Ma tormi Ma tormi Vieni qua Vieni qua Vieni Dai che mi voglio divertire Dai che mi voglio divertire Dai che mi voglio divertire Non fuggire Porca putta Non fuggire Affrontami davvero uomo Aaaaa Questo Nike Fugge come una dongella Ragazzi lo so Oggi è un episodio Un po' pvposo Ma c'avevo voglia Proprio di fare pvp Uh Tesoro mio Lui Tesoro mio Lui Dai che ho voglia di fare Un bel po' di stragi Oh bam Se lo porta a ca Vabbè un kit base Niente di che Va bene Carissimo Ciao caro Ciao tesoro Bello Ciao Sì 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 Non ti preoccupare Stai fermo Sì 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 Tranquillo Tranquillo Mangia Mangia che è buono Mangia che è buono Mangia che è buono Se vedete c'ho tutta l'armatura Consumata Facciamo slash fix all Dov'è Eccoti qua tesoro Beddu 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 Fra beddu Se mance 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 Ma che è buono Buu Che palle Prendo soltanto Kit Intermedi Datemi un bel kit Serial killer Voglio il kit Serial killer Ma ammazzo tutte Ma ammazzo tutte Oh oh Ciao ciao caro Ciao Nike Ciao Nike Tesoro lui Mi mangio la torta E facciamo strage ragazzi Vieni qua Vieni qua Vieni qua Dai che ti ammazzo Dai che ti ammazzo Vai che fa Mangi Oh piccolo lui Oh piccolo lui Sì mangia 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 che è buono Mangia che è buono Sta mangiando Sta mangiando Ah mangia che è buono No Sono morto No Non ho guardato la vita Quindi Allora Io devo dire Mi sono divertito Tantissimo Credetemi ragazzi Il pvp è bellissimo Allora andiamo al warp pvp Mi metto in slash god E vi ricordo che questo slash god Lo hanno soltanto Le persone che shoppano Il serial killer Quindi siccome sono serial killer Posso fare queste belle cose Sono qui Non mi ammazzi Sono nudo Coach me Ci are in e per me Ammazzmi Guarda che non mi ammazzano Non mi ammazzano Ah ecco Nike ci provo E c'hai provo E volevi Comunque è giusto per dirvi ragazzi Io è slash god Non posso picchiare Vedete Però ragazzi Veramente il pvp Mi diverte tantissimo Nonostante pingo tanto Devo dire la cosa Mi diverte tantissimo Detto ciao ragazzi Spero che il mio video Mi sia piaciuto Oggi abbiamo fatto Un po' di pvp Anche perché avevo Tanta voglia di farlo Io direi di tornare a casa Vi ricordo ragazzi Che l'ip del server Lo troverete qui sotto In descrizione E un'altra cosa Che vi volevo dire Io nello scorso video Del server appunto Ho detto Che andando Intanto mi prendo qui E mi prendo una bella armatura Serial killer Perfettissimo Andando al warp t Se me l'avete fatto notare Nei commenti Io ho detto Che un inventario Al warp t Vale un milione e tre Un inventario Al warp t Guardate quanto vale Vale 13 milioni Non un milione e tre Detto ciao ragazzi Spero che il mio video Vi sia piaciuto Fatemi sapere Qui sotto nei commenti Cosa magari vorreste vedere In un prossimo video Appunto sul server The legend craft Volete un video nerding Volete un video Magari dove faccio pvp Non lo so Fatemelo sapere Qui sotto nei commenti E nulla ragazzi Io spero dei miei video Oggi vi sia piaciuto Ho voluto portarvi Un pochettino di pvp Perché credetemi Sono sincero In questi giorni Lo sto provando parecchio E mi diverte Mi diverte da cani Mi dispiace soltanto Come vedete il ping E ripeto come sempre È normale Che io abbia 700 di ping In questo caso Vabbè 750 Ho la connessione satellitare Quella col ping alto Che utilizzo per caricare video Io non laggo Semplicemente io ho ritardo Col server Visto che il ping Appunto è il ritardo Chi ha i server Quella roba lì Semplicemente Quando io compio Un'azione nel gioco Tipo rompo questo blocco Vedete In realtà Io lo rompo Tipo un secondo dopo Quindi nel pvp Funziona allo stesso modo Se mi attaccate Il colpo mi arriva Almeno Il colpo mi arriva Tranquillamente Per voi attaccarmi Va benissimo A me arriva con un secondo Di ritardo Semplicemente Detto ciò ragazzi Come sempre Ho lasciato un bel Puliscione in su Qui sotto al video Fatemi sapere la vostra Qui sotto nei commenti E nulla Come sempre Ad un prossimo video Vi voglio bene E ciao ciao Bello Mi piace il pvp Mi piace il pvp